Bentornati ragazzi alla diciottesima parte di Pokémon Bianco 2 Ok, siamo ancora qua a Spiraria Dove c'è questa bellissima host Ok, e direi che è ora di affrontare le prossime sfide, i prossimi percorsi Ma prima faccio vedere un attimino delle modifiche Tipo Lucario che adesso è al posto di ritorno, Saggero Pugno Tipo InvertiVolt al posto di Supersuono Ah, la giuscossa l'avevo già fatto vedere mi sembra Sì che l'ho fatto vedere Ok, vi dispiace se un attimino... Ok Perfetto, ho riordinato un attimino le mosse Così che mi trovo meglio Ok, qua ci dovrebbe essere Tony che ci blocca fra poco E infatti, eccolo qua Che appena lo dici appare Tony, 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 Tony Scritto come Tony di GTA Ovvero Tony Sepriani Chi ha Liberty City Stories sa di cosa parlo Però, questo è un altro ancora di Tony Allora, raggio scossa Dovrebbe morire solo con quello E infatti è così Perfetto Allora, adesso manderà Simi Sear Bravo, ma io ti metto contro Samuroth Perfetto Direi che possiamo inzupparlo con un bel surf Se non è di troppo disturbo Magari, Samuroth Sai com'è O surf O quello che vuoi, sai Basta che lo uccidi Che lo asfalti per benino Ok, perfetto Esperienza E adesso c'è Serperior Ma io metto Flareon E ti trollo alla grande Muahahahaha No, vabbè, dai A parte tutto Con un paio di rogodenti dovremmo esserci Lui fa schianto Ok, non ci hanno fatto nemmeno niente Quindi sono contento No, ti prego Oh, sì, invece Vincerò io anche stavolta Tony, mi dispiace Ma, eh No, ti prego Un corno Usevo Morso Come colpo finale E... Perfetto Perfetto, perfetto Ok Battuto Per l'ennesima volta Aveva ancora tre Pokémon Che vergogna Non hai preso nient'altro Sei strano Perché solo tre Vabbè Almeno io ne ho quattro E se lui gli va bene tre Pace, amen Allora Lemonsucco Su Flareon Ok Adesso dovremmo essere in grado di ripartire Ok Ok, a Wachog Perfetto Così se dovessimo trovare Taglio forza Sui percorsi Magari Da tagliare Da usare massi Da usare forza sui massi Ok Qui c'è un Karateka Direi che Magnezon Non voglio che mi muoia Quindi Vai tu Samurot Mostra lì chi comanda Questo qua che Questa è la mia strada Ma come ti permetti Non è la tua strada Ed è quello che ritorna A farsi le sue Passeggiatine Del cavolo Che non hanno neanche senso Così In tondo Anzi In quadrato Questa che si ride Chissà Viene Avanti ancora Avanti ancora Lì c'è qualcuno Che Sta passeggiando Allegramente Ciao Che fai Qui Ok Lottiamo Ok Perfetto Andiamo avanti Qui Che c'è una Ultrabolle Ok Accendiamo anche il detector Ho uno strumento anche qua Che è una squama a cuore Molto utile Sacco di roba utile Insomma Non c'è che dire Qui c'è un pescatore Solitario Va bene Sfidiamo anche esso Anche Ello Anche lui Insomma Ok Lui era quello Del Vaporeon Ragazzi Rispetto totale Per lui Perché pensavate Che avesse dei pesciolini Invece lui ha Appunto Vaporeon Quindi Stima totale L'unico pescatore Al mondo Che non possiede Pesci o gold A comaggi Carpogollin O Chissà chi altro No Lui è originale Usa l'inventiva Rispetto Stima Ecco cosa ti darei Caro pescatore Oh Vabbè È bene Cambiare E non stare sempre Sulla monotonia Stare sempre Sulle Sulle cose così Insomma Ripetitive Vabbè Qui c'era un coccio rosso Lì c'è un fruscio Che ignorerò Però C'è già da allenarsi Abbastanza Su questa spiaggia Che è il paradiso Per i Tipi Elettro Come Magnezon O Magnezon Allora Questo Chi è? Ah Lui cerca i tesori E ci dà un flauto nero Bravo Come siamo generosi oggi Va bene E ce ne darà ogni giorno Va bene Amico Tu sei Un grande Un'ombellina Uh Ciao Bella Ok Direi di curare Il nostro Magnezon Che se no Fa una brutta fine Ecco va meglio Perfetto Rimettiamo il detector Che segnala qualcosa A destra Una grande perla Ok Pescatori Bene Fuori uno E Prossimo Perfetto Andiamo ancora avanti Una perla Buono dai Riattiviamo un altro repellente Perché serve Siamo ancora nel mezzo Delle Dell'erba E dell'acqua Ok L'abbiamo scampato Anche stavolta Prendiamo questo Bell' oggettino Che è Psichico Wow Che però Non ci serve Ma È ben accetto Lo stesso Andiamo a riordinare Quindi la tasca Così che dopo Non ci confondiamo E lo troviamo Subito Altro pescato Ok Battuto anche lui No Aspettate Qua c'è qualcosa No Non segnala niente Allora Andiamo Cene semplicemente Dove eravamo Prima E andiamo Magari Su quella Collinetta Rialzata Insomma Su questa parte Rialzata Avete capito Io non ora Insane Oh Una fantallinatrice Show bella Ok Andiamo qua Che cosa Ci sarà mai Un pezzo Stella Ok Capito Bene Bene Allora Uh Meandro Nascosto Che ci sarà Qua invece Una pokeball No Direi di fuggire Con tutte le nostre forze Perfetto Sempre sti Trolloni Che si credono Dei Gran Simpaticoni Uh Faccio anche rima Bene Dai Allora Questo qua Me lo ricordo Bene È uno Delle lotte In triple Io non ci Casco No signore Non ci Casco E visto Che Magneton È abbastanza Cioè È quello Che ha Il livello Più alto Di tutti Direi Che Escluderemmo Lui Sempre Se Ce lo Concedi Magneton Perché Anche gli altri Vorrebbero Fare livelli Sai Quindi Ciao Ci risentiamo Ciao Ranger Facciamo questa Rotta Rotazione Grazie Ok Non è morto Nessuno Perfetto Bene Bene Allora Qua che c'è Che altro C'è qua Una Casuccia Ok Tu mi Spiri Fiducia Vigor Banda Ci dà Lo sapevo io Che con le giovani Si poteva parlare I vecchietti Non danno Niente di speciale Ne sono sicuro Cestino vuoto Ma era prevedibile Allora perché cavolo Vado a controllare Chi lo sa Ma tanto Va bene così Andiamo Avanti Semplicemente Senza farci troppe domande Magari Eh Che ne dici Jolly Ok Coccio Blu Questa Ranger Che gira In tondo Beh Le ho fatti tutti Magari Faccio anche Lei Faccio anche Diciamo Frasi Così Molto bene E ci dà anche lei Una baccacerro Come il suo Compare Magari erano fidanzati Chi lo sa Il destino Che può dirci Oh Qua c'è C'è Cobalion Incontrato Nella parte Parte 14 O 15 Mi sa Ok Scontro con Cobalion Speriamo di non fargli Troppa Bua Bua Dai 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 Ragazzi Dobbiamo volerci bene Verro Quindi cerchiamo di farlo Restare in vita Lucario Non fare cavolate Ti prego Dai Ce n'è uno solo Non voler Troppo male Ecco Un gelopugno Magari O un ombra artigli Va bene Comunque Allora Ombra artigli Forse è troppo Poco danno Però Ma Finché lui usa Altruismo Non vedo Perché no Magari un gelopugno No Niente Lui è Un po' così Chissà Allora Tu hai Un megacorno Perfetto No ma ragioniamo Un attimino Magnezzone invece Ha cristal colpo Eh scusate Cannon flash Cavolo dico Allora Tuono onda Aio Questo ha fatto Molto male Non ti permettere Mai più Allora Cannon flash Dai Ce la Dobbiamo fare Olle E adesso Via di scuro Bolle Che Sono ben 40 E ho dovuto Togliare Perché la prima volta Ragazzi Flareon Ha voluto Ha voluto Diciamo Essere geloso E Mandarlo al teppeto Non lo voleva Con noi Cattivo Flareon Eh sei cattivo Sì Ma noi dobbiamo Averlo Questo qua Perché ci aiuta Contro il team plasma Quindi Eh Lui è speciale De E' uno spadaccino Boia de Insieme a Virizion E Terracion Eh Lui è leggendario Capite E' speciale Deve fare parte Di noi Forza No Lui è A sociale Non vuole Unirsi Eh vabbè Wachug Offriti Come esca Grazie E fatti catturare Magari Dai Dai che ci sta Sì Perfetto Wachug Sei un porta fortuna Per caso Guarda che abbiamo Preso Guarda che abbiamo preso Eh già Ed eccolo qui Il nostro Cobalion Che tuttavia Però non farà Parte del team Vabbè Avete mai visto Un usare Cobalion In squadra Seriamente Parliamone Poi Tipi acciai Noi abbiamo Usa due Quindi Ok Adesso abbiamo Oralia e Bell Che vogliono Mostrarci Qualcosa Prometetemi Che non ci saranno Scherzi Libero Oh brave Niente scherzi Di pessimo gusto Brave Ok Quello che ci volete Far vedere O far sentire È un racconto Ok Fossa gigante Capito Si è registrato Una temperatura Di meno 50 gradi È durata Solo un istante Sì è vero Ce ne ha parlato Anche a noi Di cose simili Quindi Ok Questa è la leggenda Di Chiurema A quanto pare Si insomma Sembrerebbe Corrispondere A lui La descrizione Eccetera eccetera Quindi in pratica Ragazzi Fortebrezza È una città Dove Tutti stanno Fuori All'aperto Ma Dopo le 20 Inventano tutti A sociali E si chiudono in casa Perché c'è Coprifuoco Perché se no Aiuto C'è il mostro Scappiamo Che poi Ragazzi Mostro È un Pocket monster Ovvero Mostro Tascabile Quindi Sarebbero tutti 720 Mostriciattoli Eh 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 Sì professoressa Comunque sia La stavo ascoltando E sì Mi ricordo Di quello che ha detto Pio Giovento Non è che Ci dimentichiamo Reshiram Così facilmente Ok Va bene Va bene Va bene Ho detto D'accordo Andremo Da Aristide Ma ce l'ha già chiesto Professore Se comunque Voglio la settima medaglia Quindi ci andrò Allo stesso Anche se non me lo chiede Sa Niente repellente Grazie E Inter Pockeco Squilla Così Chi è Alle 10 Anzi Che dico 10 10 alle 11 Sempre Lili Ok Lili È un piacere Sentirti anche se Quasi Le 11 Però dai Concediamoglielo Si sentiva soletta E ci ha chiamato Inizio a pensare Che siamo tipo Dei playboy Uno perde così L'interpocke E ti chiama 100.000 volte Sembra uno stalker Ma Chizza Che ci può dire qualcosa A riguardo Detector che segnala Cose Così a random Non si capisce Cosa vuoi Dirci Carodetector Però va bene Curiamoci Ok Allora Direi che adesso O interrompo qua Oppure Ah Ciao Tony Hai sentito dire Che il team plasma È da queste parti No Non ho visto nessuno Eh Ma se parli così Poi Allora È violante Violante Hai proprio voglia Di farti spaccare Il culo Eh Va bene Allora Ti accontentiamo Sai Però Tony Sai cosa Devo prima Prepararmi Sì 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 Jolly deve prepararsi Perché Volevo depositare Cobalion Ma mi sono dimenticato Sai Quindi un attimino Che Jolly torna da te Non ti preoccupare Allora Deposita Il nostro caro Leggendario Perfetto E così Siamo Quasi A posto Affronteremo Violante Con il suo Scagnozzo E poi Beh La parte finirà Sì Via l'attacco Dai Ok Mi aspettavo Che Se gli esse Criogonallo In quanto Lui ha una Prede direzione Per il tipo Ghiaccio Uh Serperior Che fa Fondifoglia Su di lui E lo fa Anche quasi fuori Non male Visto che Ha il 43 E l'altro Ha il 42 Quindi Perfetto Ok Direi che Accoppare Golbat È una buona idea Può Far morire O Serperior O Lucario Quindi Gelo pugno A lui Arriva Garbodor Che non è Di certo Un problema Se affrontato Con Ossorafica Intanto Sneasel Cerca di Accoppare Serperior Però Mi sa che Muore Eh quasi Però Attenzione Ok Non ci importa Se usi sotto il gusto Centomila volte Tanto Muori Garbodor Fattene una ragione Di vita Ecco Sei morto Contento ora Perfetto E concludiamo Con un palmo forza E invece No Perché Serperior Ci precede E ci ruba La scena Vabbè Te lo perdoniamo Ok Perfetto Alla faccia 9.480 Pochi dollari Grazie mille Sapete Allora No Tony Aspetta Va bene Lui fa sempre così Ragazzi Parte a tutta birra E va bene Ma io sono diverso Me la prendo con calma Lui se voleva farsi ammazzare Vabbè Oh Chi sono per impedirglielo? Nessuno Allora direi di vendere Un po' di roba Tipo Che ne so Perle Tipo Grande perla Tipo il pezzo stella E tipo Facciamo che smetti Parlare così E magari Controllo Se ho Ancora Tanti repellenti E invece no Meglio prenderne qualcuno Tipo 12 E arriviamo A 20 Sì dai Ok Dovrebbero bastare E la parte ragazza Si interrompe qua Nella prossima E ma faremo il ponte villaggio Ma prima ancora il percorso 12 Vediamo quanta strada rimane A proposito 12 Ponte villaggio Percorso 11 Boreduopoli Forse riusciamo ad arrivarci Ma non a fare il capopalestra Però Perché dovrò allenarmi Bastanza duramente Quindi Per quello no Comunque si ragazzi Io vi ho anticipato Quello che faremo Ovvero Percorso 12 Dici Monte villaggio Percorso 11 Scusate non riesco a parlare Oggi E vuole Duopoli Quindi Non mancate Che lunedì Ci sarà la parte Questa E mercoledì La parte 19 E venerdì Come sempre Parte 20 Se il palinsesto Diciamo Non si rovina A causa dei miei impegni Dovrebbe essere così Quindi Un sorruttore Da giorni 92 E ci vediamo Alla prossima Alla prossima